Noi esposiamo l'evento principale, l'evento di punta del Comune di Fogliano della Chiana che è chiaramente il Carnevale, lo facciamo dando visibilità alle iniziative che la domenica verranno organizzate in paese attraverso degli eventi il giorno antecedente, quindi il sabato con un programma che ricopre un po' tutto il mese di febbraio, chiaramente il mese in cui verranno i corsi mascherati su in paese e noi organizziamo una serie di eventi a corollario a supporto anche di questa importante iniziativa del nostro territorio. Oltre al fatto che abbiamo allestito una mostra sulla storia del Carnevale di Fogliano con una serie di fotografie, di costumi e di video che mostrano anche le abilità e le capacità che i quattro cantieri ogni anno mettono in pratica da oltre 400 anni perché è appunto il Carnevale più antico d'Italia. E poi ci sono tanti eventi a supporto, quindi si parte già sabato 1 febbraio con il Carnival Basker, quindi gli artisti di strada in maniera molto giocosa che animeranno le nostre vie e le piazze dell'outlet, per poi andare al sabato successivo, l'otto, che è la giornata dedicata alla parata delle fiabe, quindi al mondo dei cartoni, al mondo delle fiabe Disney, ormai è diventata famosissima non solo in Toscana ma anche fuori dai confini regionali. Poi chiaramente il sabato successivo avremo una gara delle mascherate, quindi portiamo il Carnevale di Fogliano direttamente in outlet e mostriamo a tutti i nostri visitatori, i nostri ospiti come il Carnevale di Fogliano si muove in paese qualora non l'abbiano chiaramente avuto modo di vederlo. E poi finiamo con il 29 febbraio, l'ultimo sabato, dove avremo un appuntamento per i più piccoli con i character di famosi cartoni animati che saranno disponibili qui in outlet per foto ricordo e incontri con le famiglie.